e questa villa già apparsa sui giornali 6 milioni di euro è quella che a lui piace tanto 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 vicina al centro sportivo dove si allenerà 5 stanze piscina sauna cantina piscina interna certo certo visto le foto pista d'atterraggio per elicotteri ma sentiamolo visto anche c'è il pianoforte si è vero è vero è a coda si vede che sono in tanti comunque ciao a tutti sono super mario e vi saluto qui da liverpool saluto anche il mister conte e lo ringrazio che non mi ha convocato ieri per l'amichevole con l'olanda così almeno sono potuto uscire con le 7 ragazze nuove che ho conosciuto il weekend scorso è vero perché sono dei problemi anche con fani giusto? si è vero chi? e tu? no fani di fani a chi? ok va bene qui a liverpool sto benissimo benissimo mi hanno accolto tutti come fossi un eroe appena arrivato all'aeroporto c'erano centinaia di fan che urlavano tenevano in mano il block notice per l'autografo ero contentissimo ho preso subito la penna poi mi sono girato e ho visto che dietro di me c'era polme e carni eccola lì comunque i tifosi del liverpool sono dei grandi forse erano i vigili col blocchetto delle multe forse comunque i tifosi del liverpool sono dei grandi hanno scritto il loro inno pensando a me davvero? you'll never walk alone tu non correrai mai con l'alone l'alone di sudore sulla maglietta perché fanno che io in campo non corro mai mi conoscono bene poi sicuramente gli inglesi apprezzano molto quello che io sono un ragazzo modesto tranquillo di poche pretese quando mi hanno chiesto di scegliere dove vivere io ho fatto tre proposte castello di Windsor Buckingham Palace e poi ho scelto una casa da 6 milioni di euro con un parco di 12 ettari hanno apprezzato la mia umiltà l'appartamento fobrio fai camere da letto piffina interna palestra fauna cemento fauna sono i tuoi amici vi è una bella fauna pifta di atterraggio per elicotteri stazione ferroviaria ti sei mangiato giovanotti e muccino insieme al tracco per i traghetti e fermata dalla metro il minimo indispensabile poi come scabuzzino delle scopre ho preso in affitto Downing Street quando ti presenti così come uno qualunque senza divismi la gente alla fine ti apprezza alla fine sì 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 perché vedi per esempio mi stanno venendo a prendere per andare agli allenamenti in aereo aspetta che saluto il comandante ciao comandante Mario fai caghera conosce anche lui caghera bambi caghera bambi